ehi lo sapevi che puoi supportarmi gratuitamente come creatore? Ti basterà inserire nell'item shop di Fortnite il nickname KinoTV e ogni tuo futuro acquisto supporterà anche me Wewe ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono Kino e oggi andremo a vedere lo scudiere sincero abbinato al set di eroi con il rapace Chi è questa persona? Scusate eh Perché? Balbetto così perché non mi ricordo se si chiama rapace ancora ok rapace pallettoni perfetto non ho fatto nessuna figura E allora gli ho messo un equipaggiamento così diciamo così perché l'unica perk che possiamo andare ad aggiungere sul fucile a pompa in realtà è proiettili esplosivi come vedete Abbiamo un pronto e carico dopo la ricarica incrementa i danni d'arma del 15% per 5 secondi quindi lo scudiere sincero che ha un colpo ricarica sempre l'arma Ma diciamo che è molto molto utile potrebbe tornare veramente veramente utile in una cosa del genere Poi incrementa il raggio della granata a fermentazione questo abbiamo imparato che io lo metto ovunque in ogni soldato che non so cosa metterli in più Giusto per fare il video così le mie granate visto che le granate possono tornare un po' utili per i piccoletti Visto che andremo a utilizzare il pompa mi sento di usare lo scudiere sincero contro gli smasher contro i mostri della nebbia Mai contro un piccoletto che ok magari contro il gruppetto che ti puscia e spari quel colpo visto che lo scudiere sincero riesce a far fuori più di uno zombie allo stesso tempo Però non vi troverete in tantissime situazioni a spammare lo scudiere sincero se ce l'avete percato come ho fatto io poi è tutto da vedere In un attimo quindi le ricariche a caricatore vuoto rigenerano 13,5% del tuo scudo in 3 secondi L'otta o fuga grido di guerra incrementa danni da arma di 8,5% e la velocità di movimento sempre di 8,5% Andremo a utilizzare il grido di guerra in combinazione allo scudiere sincero in combinazione ai compagni ma non solo anche da solo per vedere un attimo a quanto danno riusciamo ad arrivare anche da solo Non so vedremo tutto nel video insieme raga che dire partiamo subito Ok allora parto da solo poi vi farò vedere qualche spezzettone che sono già riuscito a fare con i compagni insomma Sono curioso di vedere da solo quanto può arrivare il mio danno Questo purtroppo lo devo pusciare molto velocemente E non gli è entrato critico purtroppo eh 1.560.000 raga ho visto bene? Ho visto bene? Lo rivediamo un attimo in replay? Lentamente? Ci riproviamo subito Dormi dormi 1.600.000 Oh Gli ho sciolti tutti e due mostri la nebbia uno con un colpo e uno Era a metà vita però vabbè Se qualcuno di voi si sta chiedendo perché Kino non hai messo Spitfire Light Show che ti incrementa la dimensione del caricatore Beh sappiate che matematicamente il 30% di uno sarebbe 0,3 Quindi il caricatore non aumenta per sfizio ho provato lo stesso e non arriva a due colpi Lo scudire sincero resta comunque a un colpo Niente questa era la motivazione Ok raga smasher che carica Mi faccio caricare di proposito Girati magari di testa Niente critico non gli entra Non gli vuole entrare critico raga Gli è entrato critico ma ormai avevo già finito il grid di guerra quindi non è che gli abbia fatto tanto male Solo che non capite? Cioè non capisco Perché la probabilità del colpo critico sta comunque a 46% Scusate Ah infatti stavo dicendo c'è qualcosa che non va nella probabilità di critico Ma che strano bug ho appena visto Mi segnava 56% Vabbè io avevo visto prima era 43% Non capisco perché appunto non entra critico almeno uno su tre Cioè uno su tre dovrebbe entrarmi Eppure molte volte ne devo sprecare molti molti di più Ecco sui mostri nella nebbia funziona che è una meraviglia 936.000 Così in testa Quando la vita ti da smasher di natura tu ammazzali Perché non si sa quando torneranno fisici Vedete ancora un solo critico è entrato ok Critico senza critico di guerra resta comunque a 300.000 più o meno no? Come avete visto Non Beh 600.000 adesso dai Not bad Eh? Ti ha fatto male cicciotto Ok raga in teoria eccolo qua c'è uno smasher Perfetto Grido di guerra Girati Oh quanto gli ho fatto raga Non ho visto ma gli ho fatto tantissimo Non l'ho visto ma gli ho fatto tantissimo Sapete qual è la cosa bella? Questi busciano Peccato che non gli entra nel caschetto Ah Ai pistoleri Mica pistoleri Via Ottimo Tre mostri nella nebbia raga Quattro Allora Grido di guerra subito E uno Un milione Questo è andato abbastanza Basso Aia 600.000 tipo mi sembra di aver visto Non lo so adesso Lo vedremo meglio insieme Ne avevo visto in teoria un altro di mostro della nebbia Eccolo 950.000 però ero già senza grido di guerra Allora smasher di fuoco raga Non sono riuscito a vedere bel danno ma mi sembrava mezzo milione Molto meno comunque di un milione Eccolo qui raga Ci proviamo subito Grido di guerra Ok ho sbagliato l'arma Power sarebbe Non sarebbe fiero del mio doppio pompa Un milione Quattrocentonovantacinque mila Gli ho fatto Più o meno eh Adesso qualche numero forse l'ho sballato ma Un milione e mezzo quasi Beh che dire ragazzi Questo era il video sul rapace più lo scudiere sincero Io spero che come al solito questo video vi sia piaciuto Fatemelo sapere con un like oppure un commento Quello che volete voi insomma Non preoccupatevi E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio Bella bella E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio E noi ci vediamo domani sempre con un nuovissimo episodio Grazie a tutti.